Salute, sorveglianze e controllo dell'infezione da virus West Nile, la febbre del Nilo causata da una puntura di zanzara. La regione Abruzzo ha emanato una direttiva fortemente voluta dall'assessore Nicoletta Veri dopo il primo caso che si è verificato nella nostra regione che riguarda una persona di San Salvo ricoverata all'ospedale di Pescara. Nessun allarmismo ma l'invito ai comuni a rispetto dell'igiene urbana e ai singoli ad adottare misure basilari per evitare il virus che non si trasmette da uomo a uomo, ci dice il direttore del Dipartimento Sanità della regione Abruzzo Claudio Damario. La regione ha messo una circolare per assicurare tutti i cittadini e per ricordare che esiste un piano attivo di monitoraggio di questa forma di trasmissione di virus attraverso il zanzare o attraverso degli artropodi, i famosi insetti. È un piano che ormai vige a livello nazionale al 2020 e che è stato ripreso e ripotenziato con un sistema di monitoraggio attivo da parte della regione Abruzzo, anche perché in questo monitoraggio l'Istituto Zooprofilattico di Teramo svolge un ruolo anche di livello nazionale. Esiste quindi una mappatura continua di questa problematica in sanità pubblica attraverso il monitoraggio e cattura di insetti nelle nostre aree geografiche. Abbiamo trovato qualche settimana fa una positività in insetti, i zanzare, in alcuni equini e negli uccelli dell'area dell'Alto Vastese e sono scattate tutte le norme di potenziamento della prevenzione di questa gestione delle larve. Ma quali le raccomandazioni? Ridurre i fattori di rischio, tipo ad esempio ristagno di acque, sottovasi nelle case private, la cura del verde pubblico, mentre abbiamo poi ancora di più raccomandato alla collettività misure di prevenzione anche di carattere individuale, che consiste nell'uso di repellenti contro gli insetti, quindi contro le zanzare, nell'uso quindi di protezione anche attraverso indumenti che vadano a coprire le braccia e le gambe. La West Nile non si trasmette da uomo a uomo, non c'è una trasmissione interumana. L'unico caso che sono stati valutati, gli unici casi, sono quelli attraverso la donazione. Ma in Abruzzo è già scattato ormai da tempo lo screening ai donatori, per cui qualora ci fosse un donatore portatore positivo, viene escluso dalla donazione stessa. Qual è la sintomatologia della West Nile? Consiste nella presenza di sintomi parainfluenzali, cefalee, a volte anche disturbi di carattere neurologico. Le misure di rafforzamento della prevenzione sono già scattate, quindi i comuni sanno già che devono potenziare queste misure di riduzione del rischio della presenza di larve. E dal punto di vista del singolo cittadino non c'è da preoccuparsi, ma insomma solamente monitorare se subentrano sintomi tipo febbre, iperpiresia o disturbi cefalalgici.